Buongiorno a tutti, sono Matteo Chiapasco, chirurgo maxillofacciale di Milano. Ho il piacere di condividere con Dental Campus questo percorso formativo annuale che prevede tre moduli, uno già fatto, il prossimo che ritengo davvero interessante che avrà per titolo come semplificare le tecniche rigenerative a scopo implantare nell'era digitale. Un modulo davvero importante da seguire perché verranno spiegati in modo razionale tutti i protocolli di programmazione digitale delle terapie riabilitative implantali più o meno complesse con il grande vantaggio di prove pratiche e di spiegazione di tutti i piccoli trucchi che possono trasformare e semplificare davvero una tecnica che apparentemente sembra complessa. Attendo tutti in grande numero per maggio 2024.